Condividiamo pienamente la bellezza di questo evento che vede in qualche modo l'Italia intera nel contesto di questi anni difficili, stringersi intorno al Santo Patrono per esprimere sentimenti di gratitudine e guardare al futuro con rinnovata speranza. Lo ha scritto il Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino nel messaggio letto durante la presentazione delle celebrazioni per la festa di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia. La festa avrà quest'anno un carattere inedito. Non è stata coinvolta una singola regione ma la Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere una partecipazione che si faccia gesto di gratitudine per quanti si sono prodigati nel far fronte alla pandemia. Istituzioni civili e militari, operatori sanitari, famiglie, mondo del volontariato e della scuola, realtà caritative ed ecclesiali. Sarà anche l'occasione, in particolare durante la messa del 4 ottobre, per una preghiera speciale per l'Italia e per la pace. A caratterizzare questa particolare edizione sarà la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il 4 ottobre accenderà la lampada votiva dei comuni d'Italia a nome di tutto il popolo italiano e successivamente rivolgerà un messaggio al Paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco in Assisi.